Benvenuti alle terme di Salso Maggiore e di Tabiano. Da molti anni abbiamo a disposizione le bottiglie con l'acqua termale di Tabiano per poter eseguire le cure termali a casa. Questo è importantissimo soprattutto dopo aver fatto però le cure presso il nostro stabilimento. Infatti questo trattamento non sostituisce le tradizionali cure termali che vengono eseguite in un ambiente particolare monitorizzato dal medico e che offre un'ampia gamma molto variabili di trattamenti ma consente a tutte le persone che hanno già eseguito le cure diciamo più importanti per il nostro stabilimento di poterle continuare con questo più importante strumento anche a casa. Quindi le bottiglie sono uno strumento fondamentale per continuare a casa le cure che vengono fatte principalmente presso il nostro stabilimento e soprattutto che vengono indicate e guidate da un medico. Ricordiamo inoltre che le cure termali esercitano il picco della propria funzione della propria diciamo capacità terapeutica nell'arco di sei mesi e questo è proprio la ragione per cui consigliamo almeno due cicli all'anno. È logico che per tutte le persone che non riescono a tornare la seconda volta l'acqua in bottiglia con l'acqua appunto di Tabiano permette loro di eseguire questo importante secondo ciclo in modo tale che tutto l'anno possa essere coperto con l'efficacia e la diciamo proprietà terapeutiche delle nostre acque. Bene vi aspettiamo tutti alle terme di Salsomaggiore e di Tabiano. Grazie.